Buonasera e ben ritrovati al quotidiano. Ho avuto un esito drammatico la marcia di 6,5 km a cui hanno preso parte questa mattina le reclute della scuola di Granatieri di Isone. Un giovane romando è stato infatti trovato morto lungo il percorso. Dovrà invece seguire un trattamento psichiatrico in una struttura. Il 23enne è comparso oggi alla corte delle assise criminali di Lugano. L'uomo aggredì con attrezzi da palestra i propri familiari ed un poliziotto. I periti parlano di una persona non in grado di intendere e volere, dunque non imputabile. Percorre la strada allo svincolo autostradale di Bellinzona Sud si sarà accorto di una rotonda provvisoria. È parte di un progetto che prevede anche la costruzione di una nuova rotatoria che sostituirà il vecchio impianto semaforico. L'obiettivo di questo grande cantiere è di rendere più fluido il traffico.